Il sistema immunitario ha la specifica funzione di proteggerci dalle malattie ed è stato dimostrato che l'aglio è in grado di stimolare la funzione immunitaria. È stato affermato che può prevenire raffreddori, influenza, tubercolosi, bronchite, forungoli, tumori e malattie cutanee. Oggi vi mostro come io rafforzo il mio sistema immunitario. Perché prevenire è sempre meglio di curare. Antica ricetta della bisnonna garganica, ovvero pugliese. Sbuccio tre spicchi di aglio ed elimino la parte che non mi piace. Nel frattempo che finisco di sbucciare i miei tre spicchi di aglio fresco, ti voglio ricordare, ma tu ti sei iscritto al mio canale? Hai attivato la campanellina? Fallo! Non te ne pentirai! Adesso spezzetto i miei tre spicchi di aglio. A pezzi piccolissimi. La mia antica medicina è pronta. E la verso in un bicchiere. Aggiungo semplice acqua da bere fino a riempire il bicchiere. Copro il bicchiere con un semplice piattino oppure con un coperchio. E lascio riposare per almeno sette ore. Trascorse le sette ore, ecco il mio antibiotico naturale. Capace di combattere l'aggressione di molti microorganismi come i virus, batteri, funghi e parassiti. Ed ora, cin cin, io bevo la mia medicina naturale. E non emana quel forte odore che l'aglio di solito ha. Come dice Ippocrate, il cibo è la tua medicina e la tua medicina è il cibo. Buona salute!